Anche il sistema copernicano, come del resto quello di Tolomeo, è in grado di spiegare perché il pianeta aumenta di luminosità durante il moto retrogrado. Il motivo è simile, è che il pianeta si trova vicino alla Terra. Infatti il moto retrogrado avviene quando la Terra supera il pianeta dall'interno e quindi i due pianeti stanno vicini. Non può avvenire quando la Terra invece sta dalla parte opposta rispetto al Sole e dalla parte opposta rispetto al pianeta. Dunque la Terra si avvicina al pianeta, lo supera dall'interno e il pianeta appare più luminoso perché è più vicino in quel momento.